Ragazzi sono appena uscito dalla macchina e ora mi sto incamminando verso scuola Ci metto 2-3 minuti qua in centro a Torino Ragazzi sono appena uscito da scuola, più vecchio modo Sono appena uscito da scuola e ora sono le 11.38 Andrò ad un forno, mi prenderò una focaccia e poi torno a casa Ragazzi il forno si chiama Gusto del Pane Grazie Sono preso 3 focacce e un'estate sono le 13.02 Quando torno a casa mangio, sto a giocare un po' di videogiochi Sto giocando a Fortnite Dopo che finisco a giocare mi metto un po' a studiare e poi andrò a calcio Sto studiando il giallo alla rovescia di Leonardo Sciascia E poi ho dovuto fare un po' di spagnolo Quando sono in casa normalmente mi metto le magliette da calcio Perché sono più comode Ragazzi sono arrivati agli allenamenti Sono circa le 6-6.30 E sarò qui fino alle 9.30 credo Tutto l'allenamento, il campo è vuoto ora La mia giornata finisce qua perché alla fine dopo l'allenamento torno a casa a cena Poi vado a dormire